Ciao a tutti e benvenuti alla sezione tutorial del sito SwiftUS.it In questo tutorial vedremo come inserire all'interno di una mappa un collegamento visivo tra uno o più punti. Per inserire una mappa all'interno della view è molto semplice, la richiamiamo alla nostra libreria mkmappaview impostiamo le dimensioni vincoli quindi possiamo mettere dei vincoli di 8 punti sui quattro lati all'interno della view colleghiamo colleghiamo la parte visiva come sempre al nostro file Swift la potremmo chiamare my map quindi l'abbiamo collegato ho importato vedete la libreria map kit altrimenti ci notifica errore e andiamo a lavorare la codice per inserire all'interno della mappa se noi abbiamo il simulatore notiamo che ci dà la mappa quindi senza scrivere una riga di codici abbiamo già la visualizzazione della nostra mappa e adesso inseriamo dei punti e colleghiamo creeremo un collegamento visivo tra questi punti possiamo o inserirlo all'interno di questo file oppure possiamo creare i cosiddetti pin quindi i punti in un altro file quindi potremmo creare un altro file la potremmo chiamare appunto scegliamo un file .swift lo chiameremo appunto pin eccoli qua e all'interno importeremo il UI kit importeremo il nostro map kit e importeremo il core location poi creeremo la nostra classe core location appunto per la gestione dei punti la potremmo chiamare appunto la classe la chiamiamo pin importeremo rideremo any object e il map k annotation quindi creiamo non è conforme vedete perché ci chiede appunto argomento argomento for pin non è inizializzato va bene adesso facciamo tutto quindi noi faremo una variabile che c'è datore lo vediamo quindi var coordination 2k poi faremo la var coordinate che già abbiamo importata poi faremo il titolo o title tipo stringa var subtitle vedete già ce lo suggerisce possiamo mettere per esempio var phone e di tipo stringa e poi creeremo l'init dove passeremo come parametro il coordinate che vuole uno cll location coordinate 2d e gli passeremo come parametro la nostra variabile coordinate quindi richiamiamo ricordate col surf richiamiamo la variabile di classe e gli passeremo coordinate che è la variabile interna dell'init quindi il surf vi ricordate va richiamare le variabili di classe quindi se avete dubbi vi invito a rivedere il corso base di swift quindi abbiamo creato questa semplice classe ci rispostiamo nel nostro view controller abbiamo appunto fatto il collegamento a map e adesso andiamo a lavorare su richiameremo possiamo richiamarlo con extension oppure inserito direttamente nella classe richiamiamo il k map view delegate quindi il delegato di map kit e creeremo le nostre adesso variabili nei nostri punti adesso vado veloce ma molto semplice abbiamo allora mettiamo ad esempio possiamo mettere la città di londra possiamo mettere la città di new york metto dei punti distanti in modo da rendere più esplicita poi dopo la visualizzazione new york e possiamo mettere roma quindi let roma a queste variabili o meglio costanti mi dobbiamo assegnare le coordinate di questo punto io ovviamente ho già recuperato le coordinate che devono essere coordinate lo scriviamo qui anche coordinate in gradi decimali quindi già lo regalava tramite google quindi richiamiamo gli assegniamo la variabile cl location location core coordinate due make dove vuole una latitudine e ovviamente una longitudine e gli passeremo le nostre variabili allora quella di londra è 51.5085300 ovviamente come ripeto già le ho segnate mentre è meno 0.125 7400 questa è la coordinata di londra poi faremo la stessa cosa per new york e roma mentre roma new york abbiamo 40.70263 abbiamo meno 74.18777 quanto riguarda roma invece abbiamo 41.9109 e qui abbiamo 12.4818 quindi abbiamo messo le coordinate di questi tre punti dopodiché nel nostro width di load richiamiamo il nostro my map riassegniamo il delegate che è stesso lui e creiamo i nostri pin quindi faremo let pin pin 01 oppure richiameremo proprio per nome pin londra richiameremo la classe pin dove gli passeremo appunto abbiamo richiamato la nostra classe pin come parametro gli dobbiamo dare le coordinate d'ingresso infatti vedete ce lo chiede e noi passeremo appunto londra facciamo la stessa cosa per noi new new york new york new york gli assegneremo sempre la classe un'istanza o meglio parliamo bene un'istanza della classe pin gli passeremo new york e creiamo una terza istanza chiamata scusate qui ho messo new york ma mettiamolo bene pin new york pin roma e anche qui gli passeremo un'istanza della classe della classe pin e gli passeremo roma dopo di che richiameremo il nostro pin londra e e assegneremo al titolo il nome londra quindi la proprietà titolo diremo londra stessa cosa per pin new york richiameremo title richiameremo new new york e stessa cosa faremo per roma pin roma title uguale roma quindi abbiamo configurato i nostri pin all'interno del guide del load richiamando anche l'app delegate dopo di che metteremo richiameremo sempre nel delegate my map e riassegneremo i nostri pin i nostri pin che saranno pin o meglio richiameremo la proprietà show show annotation che vuole un array di mk annotation che appunto sono i nostri pin e vi passeremo all'interno di un array i nostri punti che quindi sono pin londra roma va bene londra pin new york e pin roma e diciamo di essere tipo animato true ok adesso dobbiamo fare in modo che i nostri pin vengono visti quindi adesso noi lo faremo all'interno sempre dell'app delle scusate del view di load quindi verranno visualizzati subito ma potremmo assegnare la visualizzazione attraverso un bottone o uno switch o qualcosa che attivi poi il codice a seconda ovviamente poi della funzione o meglio del caso a cui necessario della nostra applicazione quindi creeremo una variabile la chiameremo coordinate coordinate che saranno Londra New York e Roma dopodiché la chiamiamo fly by è detta così perché appunto è un collegamento al volo sarà un mk geo geo one line dove passeremo location 2d che appunto in ingresso vuole queste coordinate e noi passeremo la nostra variabile coordinate vedete di tipo creation 2d passeremo appunto questa variabile che abbiamo messo londra New York Roma e metteremo count punto quindi quanti sono i punti della nostra array in questo caso appunto 3 dopodiché l'ultimo punto è appunto richiamare il nostro my map e rendere visibili i punti quindi punto add over light e passeremo appunto la nostra variabile fly by dopo di che dobbiamo impostare la funzione che si chiama map view map view mk view rendeli vediamo un po' se era questa quando allora chiameremo renderer for rendere for eccola qui dovrebbe essere questa ok sì perfetto e creeremo il nostro poligono e capiremo dopo quando lo visualizziamo let poli line prende 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 r prende r e assegniamo un m k poli 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 renderer eccolo qui perfetto sembraccio se mi richiama overlay e passeremo overlay e passeremo a questa funzione dopodiché faremo il poli rendere stroke color in poche parole questo codice serve per creare la linea che collega i punti infatti crea un poli line adesso vi sto dando il colore quindi vuole un colore quindi uicolor possiamo provare vedete la facciamo la facciamo rossa poi gli daremo un poli rendere gli daremo lo spessore della linea line quindi possiamo dare un 4 e alla fine restituiamo scusate restituiamo tanto è quello red in uscita appunto si troviamo questa linea che ha come colore un rosso e come spessore 4 perfetto ok perfetto abbiamo detto adesso vogliamo rilanciare l'applicazione vedete ed ecco qua che abbiamo creato i punti dove abbiamo il punto di partenza new york e dove parte appunto tramite la creazione di questo poli line collegamento per londra che sono i nostri punti e roma vedete possiamo anche fare il punto di partenza è sempre uno quindi se dobbiamo avere la necessità da un punto a collegarci a diversi punti possiamo notare questa soluzione oppure possiamo creare appunto un itinerario in questo modo siamo cioè fare da new york a londra e un'altra chiamiamola curva tra londra e roma quindi per farlo facciamo molto velocemente in modo semplice ci spostiamo qui quindi tutto il gioco è qui quindi scusate commentiamo questo per esempio due righe facciamo copia incolla scusate ok copia fare prima quindi faremo un collegamento tra new york e londra ok poi faremo copia e colla di questo codice quindi abbiamo fatto il collegamento di queste due le chiameremo coordinate 2 flyby 2 e aggiungeremo a mappa flyby 2 in queste coordinate 2 ovviamente bisogna modificare anche qui metteremo londra roma e la visualizzeremo quindi farà il primo passaggio farà new york new york londra il secondo passaggio roma 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 vediamo se abbiamo fatto correttamente vedete ecco qui proviamo a girarlo si vede meglio ok vedete new york londra roma vedete in modo semplice e veloce possiamo creare un effetto abbastanza simpatico e carino se dobbiamo far visualizzare al nostro utente un itinerario tra città o punti in generale distanti dal lontro ovviamente possiamo cambiare tramite questo metodo sia la spessore della linea sia il colore possiamo farlo blu facciamo un bello spessore 6 giusto per concludere vedete diventato blu più spesso e quindi molto carino bene anche per questo tutorial è tutto vi ricordo per domande o chiarimenti potete visitare il sito swift.js.it o commentare questo video se il tutorial vi è stato utile potete lasciare un mi piace qui sotto e iscrivervi al canale per rimanere a giornale sulle prossime tutorial e lezioni grazie e buona programmazione a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti